Sì, certo. Più ci penso e più mi convinco che qui dentro c'è un qualcosa che sa di rosa. Pirelli è il vero super molleggiato, giusto per noi. Pirelli è il molleggiato super vero e vive con noi. Pirelli è il super molleggiato, giusto, forte, fatto per noi. Ma chissà quanto costa, direte voi, il vero super molleggiato. E i molleggiati costano, ma questo costa una cifra giusta, più poco che tanto, anzi quasi poco, meno per il mio carattere. Pirelli è il super molleggiato, giusto, forte, fatto per noi. Materassi e molle Pirelli, i super molleggiati.